Io sono Enzo Fornirossi, Vincenzo Fornirossi ma per gli amici sono Enzo, mi conoscono bene tutta la comunità e tutto il territorio. Sono il sindaco di Arpaise, un piccolo e meraviglioso centro della provincia di Benevento, un piccolo comune di 750 abitanti circa. Siamo una comunità che lavora molto intorno al territorio, è un grande sacrificio di ognuno, tutti i volontari, anche io. Abbiamo messo su questa sagra della castagna del Partenio, con ovviamente il contributo a dir poco, sto diminuendo, enorme del gruppo della Prologo Generoso Papa di Arpaise che ha lavorato tanto, tantissimo, da almeno sei mesi su questo evento, mettendo in discussione e a disposizione della comunità il proprio tempo. Ognuno di loro, con un impegno veramente merita un monumento per questo. Bene, ovviamente ringrazio il Presidente della Prologo che sta qui con me e sicuramente vorrà precisare delle cose. Salve a tutti, sono Walter Mazzone, sono il Presidente della Prologo Generoso Papa di Arpaise APS. Quest'oggi la gente ci ha onorato in modo particolare, veramente è stata sentita questa situazione della sagra della castagna. Ormai siamo arrivati alla 27esima edizione e veramente possiamo essere orgogliosi del lavoro fatto. Ci sono mesi di programmazione e voglio dire un grande, infinito grazie a partire dall'amministrazione comunale che c'è sempre al fianco e a tutti i componenti del direttivo e a tutti i soci della Prologo. Senza di loro questo non sarebbe mai realizzabile, possibile realizzare. Che dirvi? Venite ad onorarci quando potete, non resterete male perché veramente mangerete la castagna del Partenio, veramente squisita. Allora, siamo alla 27esima sagra della castagna del Partenio, siamo ad Arpaise. La sagra ieri sera è andata benissimo, c'era gente da tutta la regione, siamo assolutamente soddisfatti e spero che siano rimasti tutti contenti dell'evento che hanno trovato. Continuiamo oggi a pranzo, siamo qui fino al tardo pomeriggio, quindi veniteci a trovare e vi aspettiamo sopra i russi. La giornata di oggi è la seconda della 27esima edizione della Sagra della Castagna, è stata arricchita da una passeggiata con lo scopo di far conoscere, crescere e accrescere quello che è l'interesse per i borghi rurali del territorio, nel caso specifico quello di Arpaise. La passeggiata ha avuto la finalità non solo della raccolta della castagna di Arpaise del Partenio, prodotto tipico della zona, ma anche quella della valorizzazione della flora, della fauna, del territorio stesso. La giornata è andata bene, fortunatamente il tempo ci ha accompagnato e spero che questo possa essere l'inizio di nuove risorse per il territorio.